Rompi le regole, fai vedere chi sei. Nuovo colorista washout di L'Oreal Paris. Colorazioni temporane per giocare con i tuoi capelli. Blu, mermaid, peekaboo, colori super trendy, tutti da mixare, che durano da 2 a 15 lavaggi, delicati sui capelli. Nuovo colorista washout di L'Oreal Paris. Do it your way. Noi valiamo.